...dalla parte di fornodi, dalla parte di balli, dalla parte di balli che sono due pietre da Piazza Grande, tornando a questo posto e fattata. ...dalla parte di balli, dalla parte di balli, dalla parte di balli. ...dalla parte di balli, dalla parte di balli. ...dalla parte di balli, dalla parte di balli, dalla parte di balli. ...dalla parte... ...dalla parte di balli. ...dalla parte, dalla parte di balli... ...dalla parte... ...da parte... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.